La mostra è composta da opere, diciamo che l'80% sono opere inedite relative alle tre fasi, violenza, consapevolezza, rinascita. Quindi anche per un visitatore meno attento oppure non usuale alla cultura, all'arte, perché magari sembra sempre così lontana, in realtà l'arte deve mandare messaggi, quindi noi artisti molte volte siamo portati, cioè dobbiamo sentirci partecipi di questi messaggi. Il messaggio è proprio smuovere le coscienze attraverso il nostro modo di fare arte. È un evento itinerante, quindi partiremo l'8 marzo da Pesaro ai musei civici, Palazzo Toschi Mosca numero 29, e quindi vi aspettiamo, per poi toccare altre sei città italiane, dove ho inserito artisti a livello nazionale e internazionale, scrittori anche pluripremiati, ci saranno relatori, ospiti, video, cortometraggi, quindi toccando varie tematiche appunto legate tutte alla violazione dei diritti umani.